Nonostante le tante polemiche che caratterizzano sempre i consigli comunali ragusani, la Giunta Piccitto va avanti per la strada della politica del fare, così da loro definita, di cui ne ha sempre fatto baluardo. Nella progettualità dell'amministrazione finiscono ora le aree verdi comunali, gli asili nido. Con determina dirigenziale del sesto settore, ambiente verde pubblico ed energia, adottata il 22 giugno scorso, è stata approvata la spesa di 30.000 euro per interventi urgenti da eseguire presso le aree verde comunali per la messa in sicurezza di alcuni siti, eliminando essenze arbore e pericolanti, come ad esempio le palme attaccate dal punteruolo rosso. Affidato alla ditta Floridia-Sebastiano, l'appalto relativo ai lavori di ampliamento e sistemazione degli asili nido comunali, San Giovanni ed Ex-Omni, per l'importo di circa 69.000 euro. A disporlo la determina dirigenziale del 13 giugno scorso del quinto settore programmazione e opere pubbliche, che fa seguito ad un precedente provvedimento dello stesso settore, con il quale si è determinato di procedere mediante procedura negoziata all'affidamento di tali lavori, utilizzando fondi PAC, piano di azione e coesione, secondo riparto dei servizi per l'infanzia.